Ciao a tutti, mi chiamo Paolo e a luglio del 2020 un mio amico mi aveva proposto una piattaforma di arbitraggio sulle criptovalute che si guadagnava da un 12 al 18%. Andando su internet mi sono imbattuto in un video di Riccardo dove presentava la piattaforma in italiano. Successivamente a fine di ottobre ho avuto una call personale con lui dove abbiamo fatto un check up della mia situazione attuale. Abbiamo messo in pratica delle strategie per arrivare a un certo obiettivo. Successivamente una settimana fa mi sono iscritto al corso di Superman e durante la settimana ho ascoltato tutti i video dove Riccardo e il suo team ci portano a conoscenza delle varie strategie. Balzo, Ironman, piattaforme per arrivare dalla posizione attuale al nostro obiettivo finale che sia di guadagnare 2.000 euro, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 al mese o anche di più però dai raga bisogna lasciare qualcosa anche agli altri. Dobbiamo imparare solo a mettere in pratica quello che ci insegnano Riccardo e il suo team perché stanno facendo un gran lavoro per metterci a nostro agio e avere meno impegno possibile per arrivare all'obiettivo finale. Grazie di tutto a Riccardo e al suo team. Ciao ciao! Ciao!